Le nuove regole sulla valutazione nella scuola primaria stanno provocando in molti genitori e anche in qualche insegnante la preoccupazione che la scuola senza voti possa in qualche misura incrementare la disaffezione allo studio da parte degli alunni. Purtroppo è un pensiero diffuso e noi lo constatiamo leggendo i commenti che popolano la nostra pagina Facebook. Il fatto è che si tratta di un'idea certamente legittima ma che ha davvero poco fondamento. Per quanto ne sappiamo infatti non esistono ricerche scientifiche che confermino questo punto di vista, anzi è esattamente il contrario. Già dagli anni 50 gli psicologi dell'apprendimento e dell'età evolutiva hanno messo in evidenza che il bambino impara perché è spinto da una motivazione interna, impara per il gusto e per il piacere di scoprire cose nuove. Certamente si possono anche imparare tutte le date più importanti della storia del risorgimento italiano in vista di una interrogazione, ma come tutti noi abbiamo sperimentato si tratta di un apprendimento di breve durata che quasi sempre scompare per lasciare spazio ad una nuova sequenza di date legate ad una interrogazione successiva. D'altronde proviamo a riflettere un momento sui meccanismi che stanno alla base dell'imparare anche una cosa molto semplice, andare in bicicletta. Perché il bambino decide di cimentarsi in questa impresa? Ovviamente perché è un'attività divertente, piacevole, che permette anche di fare nuove esperienze di socialità. Insomma, siamo interessati ad imparare perché vogliamo fare qualche cosa di gratificante in sé. Certo è che il fare scuola facendo leva sulla motivazione dell'alunno anziché sulla gratificazione del bel voto è difficile e faticoso, anche perché non tutti gli alunni hanno la stessa motivazione e lo stesso modo di imparare. Ma l'azione pedagogica contiene in sé anche questa grande sfida, riuscire a trasmettere a tutti gli alunni il desiderio di imparare e di migliorarsi. Senza dimenticare un aspetto importante. Imparare vuol dire impegno, alle volte persino fatica, non sempre le cose si imparano in modo facile, senza sforzo e magari con divertimento. Ma se si è davvero motivati si riesce anche a mettere in campo le energie necessarie per superare gli ostacoli. Questo principio vale per gli adulti ma anche per i bambini. Certo si può anche convincere l'alunno a imparare e a studiare allettandolo con il premio del bel voto, ma questo non è apprendimento vero. Al massimo è addestramento. Nel primo caso si aiuta l'alunno a diventare un soggetto autonomo, nell'altro caso si rischia di limitarsi a farlo diventare un esecutore, magari anche molto bravo ma di progetti altrui. Ovviamente cancellare il voto non significa eliminare ogni forma di valutazione, tutt'altro. Ne abbiamo già parlato in altri video precedenti. Qui vogliamo ricordare che le nuove regole prevedono proprio che a partire da quest'anno la valutazione abbia una funzione formativa e contribuisca quindi a favorire e a consolidare i processi di autovalutazione degli alunni. Sono appunto questi gli strumenti che possono garantire una valutazione che serva davvero alla crescita e al miglioramento di ciascuno. Grazie a tutti.